Se Mario Draghi mercoledì dovesse rimangiarsi il suo non esiste alcun governo senza 5 stelle e a maggior ragione se dovesse rimangiarsi le sue dimissioni, beh, perderebbe la faccia e anche la sua parola varrebbe davvero poco. Io mi chiedo perché non si sceglie la via francamente più semplice. Il mio suggerimento va al presidente Sergio Mattarella. Ma se tutte queste forze politiche, il Partito Democratico di Letta, Forza Italia con Silvio Berlusconi, Italia Viva con Renzi e Calenda e Bonino e Fedriga e Giorgetti considerano Draghi il migliore, perché non lo candidate alle elezioni? Molto semplicemente, candidate Draghi alle elezioni. Andiamo al voto e vediamo se gli italiani preferiscono Draghi o l'alternativa per l'Italia, l'alternativa a Draghi. Scommettiamo, vediamo come va a finire. Ma non avete questo coraggio, potete vincere solo rinchiusi nel palazzo. Se andiamo al giudizio degli italiani, sapete perfettamente che avete già perso. Per questo Draghi dovrà perdere la faccia e la sua parola, non varrà più nulla.